Salve a tutti, Rekot qui è Rocket e bentornati ragazzi finalmente in questo nuovissimo video del mio canale infatti le news di Spada Scuto sono ormai alle porte, ma anche ormai pochissimi giorni alla live di 24 ore organizzata da Pokémon Compile direttamente dal bosco Billabin, una zona misteriosa di Gaza situata appunto a nord oest della regione in cui vedremo delle cose sicuramente interessanti in quelle 24 ore di live stream come avete ben capito in questo video cercheremo di immaginare cosa vedremo appunto in quella stranissima live stream organizzata da Pokémon Compile di 24 ore, quindi magari qualche nuovo Pokémon, qualche nuova forma Galar e via dicendo quindi vedremo quali novità hanno in serbo per noi, mi raccomando però ragazzi prima di partire un bel like e un supporto come sempre per il video e per il canale ovviamente anche un bel commento qui sotto con le vostre previsioni, le vostre impressioni per la live stream di venerdì dalle ore 15 sul canale ovviamente di Pokémon di 24 ore prima di partire però un brevissimo commento della notizia uscita appunto ieri se non ricordo male riguardo lo spade e scudo il fatto che ci saranno 18 palestre, insomma divide tra palestre di minore importanza, mettiamola così, e palestre di maggiore importanza vediamo un po' ragazzi come Game Freak e Pokémon Compile gestiranno la cosa, infatti non è detto che in unica versione ci saranno tutte le 18 le palestre insomma affrontabili, infatti magari molte saranno esclusive della versione, quindi un po' in spada e un po' in scudo e appunto hanno anche specificato che alcune palestre saranno appunto di minore importanza mentre altre di maggiore importanza quindi sì, ce ne saranno 18 però vediamo appunto, saranno tutte affrontabili in unica versione o meno sicuramente la cosa è interessante, ci riporta un po' insomma ai tempi magari anche di oro argente in cui le palestre erano tantissime quindi vedremo un po' ragazzi se le ore di gioco in queste palestre aumenteranno notevolmente oppure no tornando comunque al nostro argomento principale, trovo che l'idea di fare una live di 24 ore direttamente da un bosco di Galar sia veramente interessante per mostrarci nuovi Pokémon e nuove chicche interessanti sinceramente sono molto curioso ragazzi per i nuovi Pokémon che vedremo appunto sicuramente in queste 24 ore di live stream dal bosco di labirinto in particolare magari forme Galar ragazzi, chissà quali forme Galar si nascondono in questo bosco misterioso di Galar a nord-ovest chissà ragazzi cosa vedremo, in questi giorni ragazzi per esempio abbiamo avuto la storia di Krabby che ha invaso alcune pagine giapponesi nel sito di Spade Scudo quindi io farei attenzione alla figura di Krabby, magari un Krabby in forma Galar non so se magari la controparte appunto di Surf, cioè esclusiva in Pokémon Spada magari la forma Galar di Krabby sarà esclusiva in Pokémon Scudo quindi un Krabby corrazzato che uscirà appunto da questa foresta e magari poi diventerà anche un Kingler forma Galar, vedremo ragazzi, sono molto curioso perché sul web si trovano degli artwork veramente fatti molto bene di una forma Galar di Krabby, quindi sono curioso ragazzi questo è un indizio particolare, infatti Krabby ha invaso il sito di Pokémon giapponese o meglio alcune pagine e insomma la cosa mi ricorda un po' insomma il glitch che aveva appunto riguardato Surf nei giorni precedenti al suo annuncio quindi io terrei d'occhio Krabby perché potrebbero magari uscire delle sorprese riguardo quel Pokémon un po' dimenticato possiamo dire di prima generazione sicuramente comunque sia vista la zona, si tratta di un bosco di nome Brillabirinto quindi insomma qualcosa che magari riguarda il tipo Folletto, magari anche il tipo Beleno dato che è un bosco mi aspetto anche insomma l'annuncio magari di un Coleotro qualcosa del genere, il Coleotro appunto peculiare di questa ottava generazione ancora non ce l'abbiamo quindi potrebbero anche annunciare, farci vedere durante questa nave di 24 ore un Coleotro appunto che sarà peculiare di questa ottava generazione di Spade Scudo appunto è un bosco ragazzi che si ricollega per il suo nome e per la sua insomma zona sulla mappa di Galar anche al tipo Folletto addirittura è uscito sul web un leak su 4chan quindi nulla di troppo serio di una possibile forma Galar della linea evolutiva di Nidoran quindi Nidoran, Nidorin, Nidorino, Nidoking e Nido quindi insomma con il typing Folletto Terra vedremo un po' se questo leak insomma che voleva per dire questa live stream avrà azzeccato appunto la forma Galar di Nidorking e Nidorquin appunto come collegamento per i nomi King e Queen con insomma la regione di Galar che è espirata al Regno Unito quindi insomma il collegamento ci potrebbe anche stare però vedremo ragazzi se riceveranno una forma Galar questi Pokémon di Kanto che non hanno ottenuto nessuna Mega, nessuna forma Lora quindi magari una forma Galar potrebbe starci ragazzi vedremo un po' se potremmo spuntare appunto da questo bosco queste forme Galar oppure no di cose nuove quindi ne abbiamo già sicuramente vedremo delle forme Galar per quanto mi riguarda magari anche qualche nuovo Pokémon insomma quella magari un Coleottro o magari un Pokémon volante anche oltre a Corviket vediamo un po' se insomma annunceranno il volante peculiare dell'ottava generazione oppure effettivamente quel volatile sarà Corviket ma ragazzi la domanda è in questa live messa all'inizio ottobre quindi un periodo molto importante per gli starter vedremo queste evoluzioni intermedie degli starter in mezzo alla foresta in qualche modo oppure no perché sinceramente essendo una live della foresta mi sembra strano che arrivino appunto l'evoluzione intermedia degli starter però ragazzi il periodo è quello siamo appunto al 4 ottobre con quella live dal bosco di labirinto e il periodo appunto è maturo il periodo è giusto per vedere le evoluzioni intermedie degli starter quindi io in ogni caso in qualche modo me li aspetto o magari spunteranno fuori dal bosco oppure mostrano qualche allenatore che le possiede sinceramente non so come verrà strutturata la live stream però ragazzi anche l'evoluzione degli starter intermedie almeno me li aspetto in qualche modo quindi ragazzi vediamo un po' insomma da venerdì pomeriggio cosa accadrà sul canale ufficiale di Pokémon in questo live stream che secondo me è veramente particolare e addirittura Pokémon Company doveva fare attenzione a non mostrarci troppe cose perché 24 ore ragazzi di cosa ne possono succedere veramente tantissime quindi fatemi sapere anche voi la vostra qui sotto con un bel commento mi raccomando e anche un bel like di supporto al video e al canale per oggi quindi possiamo dire che da Rocket è tutto quindi direi che vi auguro un buon pomeriggio una buona giornata e ovviamente come sempre bye 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 ciao a tutti